la signorina Carlotta volevo dedicare a una zia si chiama Carlotta cantavo tanti anni fa è una ragazza che ragazza si chiama Carlotta è andata via ma perché io gliel'avevo detto vai via in tempo prima che ti vedi la canzone è peggiorato no io volevo chiedere una cosa però a voi due riuscite una volta iniziare una canzone e farne almeno un minuto cioè no perché buttate lì un pezzo di canzone io no no la caramella io vado a casa passo tutto il tempo del viaggio ho 17 chilometri da fare la caramella bisogna lasciarmi in bocca alla gente ho sentito se siamo conosciuti Cavaliero ma non so se hanno concluso alla fine si ho capito ho capito ma se tu mi dai solo delle cose così vabbè dalla volta scorsa è peggiorato ma come è successo nel mese di gennaio? non il primo gennaio non il primo gennaio ma per me è preso dica dica no no mi viene l'esormento così ma no lascia perdi lascia perdi lascia perdi fai puli ca te i titons bagna a coda coi patina bo e i pendoli fina io bagna a coda coi patina bo come si? bagna a coda coi patina bo e coi patina bo scusa 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 allora posso cantare un brano? vai avanti con te te Amedeo vai avanti no no va bene fai una più serie dai cosa fai allora che eh dai che